Iscriversi da noi significa potersi immaggere e fare un viaggio nelle più importanti testimonianze del passato. In Campania insistono i più importanti musei di storia dell'arte e di archeologia. In questo nostro territorio abbiamo testimonianze che vanno dalla Grecia Antica, da Cuma a Poseidonia, Pestum, fino ad arrivare ai siti distrutti dall'eruzione del Vesuvio, Pompei, Ercolano, Stabbia, una vera e propria palestra formativa che il mondo ci invidia. I nostri iscritti possono completare la loro formazione vivendo all'interno di queste strutture, tramite accordi, convenzioni, master, tirocini. Si percorre un periodo della propria formazione a diretto contatto con questi cantieri importanti e si apprende il proprio mestiere nei luoghi che saranno nel futuro gli spazi lavorativi.